Rallegra divina di grazia, il Signore è con te. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concederai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrai chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Come avverrà questo, poiché lo conosco uomo? Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la tua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella loro che hai ha concepito anch'esso un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detto a stelle, nulla è impossibile a Dio. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Grazie. Grazie.